E' stato il favoloso scenario del palazzo socio-culturale di Santa Lucia del Mela ad ospitare la prima selezione del concorso di bellezza ragazza dell'anno 2012. Ben 26 bellissime ragazze in gara per conquistare l'accesso alla finalissima che si svolgerà nel mese di settembre. Come al solito compito non semplice per la giuria che alla fine ha premiato la barcelonese 17enne Ketty Scattareggia con il titolo ragazza dell'anno Paradiso di Eva, Giulia Di Bella 15enne di Milazzo che ha ottenuto la fascia ragazza dell'anno Gold e la barcelonese Alessandra Passaniti di 19 anni con il titolo ragazza dell'anno Charm. Ogni vincitrice è stata premiata con un gioiello offerto dal maestro Orafo Elio Appierto. Ad aprire il concorso sono state Matilde Mendoli e Emanuela Giunta rispettivamente ragazza dell'anno 2010 e 2011. Oltre alla sfilata delle bellissime ragazze il numeroso e caloroso pubblico ha ammirato l'esibizione della cantante Cettina Pantiferi, delle Magiorette Le Coccinelle di Gualtieri Sicaminò e della Scuola Danza Dimensione Cultura di Pace del Mela. Le ragazze come sono? Si impegnano? Sono brave? Ti fanno disperare? No, disperare no, assolutissimamente. Sono tutte ragazze motivate e si impegnano abbastanza. Una ragazza per vincere un concorso di bellezza, secondo te cosa dovrebbe avere? Allora, innanzitutto la semplicità. Deve sicuramente non essere montata, cioè avere troppi grilli per la testa, perché secondo me la semplicità alla fine paga tutto. Allora, lì, pari!